Per l'Empoli oggi è arrivata una sconfitta nel confronto con il Napoli, un Empoli che era passato in vantaggio con una tua rete, poi c'è stata l'itorno della squadra partenopea, ma fino in fondo la squadra ci ha creduto e ci ha provato a recuperare questo risultato? Sì, ci abbiamo provato fino in fondo perché l'avevamo preparata per vincere, non importa che siamo salve, noi ci impegniamo sempre, abbiamo preso tre pali quindi la sconfitta è stata un po' amara per questo, però speriamo che nella prossima gara sia più importante. Ad aprire il discorso Marcadure sei stata tu con un gran gol, il primo gol con la maglia dell'Empoli, con il sinistro da una trentina di metri, veramente un gran gesto tecnico. Sì, è stato bello, è stato un bel gol perché comunque era da fuori aria con il piede debole, però comunque il risultato è stato negativo, quindi sono felice ma non come vorrei essere. Dalla prossima settimana testa completamente all'ultima gara di campionato, ci attende il derby con la Fiorentina? Sì, come ho detto prima, noi non importa che siamo già salve, il derby è sempre il derby, quindi cercheremo di fare bene e di portarci accanto alla vittoria.